Una bella giornata di sport ed una importante vetrina internazionale per promuovere Manfredonia e il suo territorio che il 10 ottobre intorno alle 13.30 ha visto il passaggio del 103esimo Giro d'Italia con la tappa partita da Giovinazzo e l'arrivo in via Europa a Viest. Per la cronaca l'ottava tappa del Giro d'Italia è stata vinta dall'Alex Dowsett, un 32enne inglese. Dowsett ha regalato la prima vittoria in un grande giro all'Israel Startup National, lasciando a 12 chilometri dalla fine i compagni di fuga di giornata come Salvatore Puccio, Matthew Holmes, Joey Rackspot, Mattias Brandel, arrivati nell'ordine di traguardo così come menzionati poco fa. Grazie per la visione!